Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, io sono Blink46, siamo sempre al Computex di Taipei 2023 e oggi facciamo un giretto allo stand di Acer perché ci sono un paio di chicche molto carine. E direi di iniziare da qui dove abbiamo il case o il preassemblato ITX più interessante probabilmente della fiera. Si tratta dell'Orion X, un case in questo caso venduto come preassemblato che può supportare all'interno fino alla 4090, 13900K, due SSD e tanto altro. Ma la cosa più interessante di questo case è soprattutto la sua modularità e la facilità di apertura. Praticamente per aprirlo è molto semplice, dietro ci sono comunque due viti ma ci basta premere questa clip e come potete vedere si sgancia. Abbiamo nel lato sinistro la scheda video e nel lato destro invece tutto il resto, quindi processore, alimentatore di tipo SFX. Nella parte frontale abbiamo oltre alle porte USB jack per le cuffie e microfono e c'è anche questo sportellino che ci permette di aggiungere o togliere l'SSD in modalità hot swap. Eccolo qui, come potete vedere è con un enclosure purtroppo in plastica ma ci permette di avere dello storage interno ed esterno allo stesso tempo. Quindi posso ipotizzare magari di avere un progetto magari che ne so su Premiere, DaVinci Resolve o che ne so film, qualsiasi altra cosa e averli all'interno del nostro pc fisso e con un click praticamente possiamo aprire lo sportellino, togliere l'SSD e portarcelo in giro. Dal punto di vista estetico lo trovo veramente veramente piacevole con questo design minimale con i led nella parte frontale, tasto di accensione e un design abbastanza futuristico diciamo così. Nella parte superiore c'è questo accessorio che dovrebbe essere un porta cuffie, questo personalmente è abbastanza superfluo però vabbè è carina come cosa, praticamente si aggancia nella parte posteriore poi può essere abbassato, rimanere in questa zona, possiamo metterci le nostre cuffie, però vabbè è un porta cuffie, niente di esagerato. Quello che c'era nella parte frontale invece è un pezzo di acrilico che praticamente va semplicemente a fare da copertura ed è attaccato magneticamente ma non blocchi in nessun modo l'airflow, infatti nella parte frontale è tutto chiuso, l'airflow è tutto nella parte laterale destra, superiore e anche sinistra. Nella parte superiore possiamo mettere un radiatore fino a 240 mm, qui possiamo vedere praticamente un esploso di questo case e come vi dicevo appunto nel lato sinistro c'è la scheda video, a destra invece abbiamo il dissipatore, processore e tutto, ma cosa molto bella è che fortunatamente Acer ha deciso di mantenere tutte i componenti standard, non c'è niente di custom, quindi eventualmente anche comprando il preassemblato in un futuro può essere upgradato, fatta manutenzione e molto altro. Questo a mio parere è molto importante soprattutto su una macchina del genere perché abbiamo visto tante volte configurazione ITX simile a questa, non tanto per il punto di vista estetico ma proprio dal punto di vista funzionale, adattate però con componenti completamente custom che se si dovessero rompere non possiamo farci niente o dobbiamo per forza mandarlo in assistenza o se dovesse passare del tempo diventerebbe obsoleto. In questo caso invece si può upgradare tranquillamente, hanno annunciato anche che potrebbe arrivare come stand alone e quindi poi farci la propria configurazione. Da quel punto di vista mi piacerebbe davvero tantissimo anche perché è molto interessante come concept, dal punto di vista estetico a me personalmente piace parecchio e il prezzo non sarebbe neanche esagerato, dovrebbe essere intorno ai 300 euro solo per il case. Questa configurazione invece con 4090, 13900k e molto altro invece ha un costo decisamente elevato, parliamo di circa 4000 e qualcosa euro. Qui invece abbiamo dei display 3D che funzionano con l'eye tracking, praticamente noi possiamo posizionarci davanti e verrà riprodotta l'immagine in base a dove siamo. L'effetto 3D è ottimo, funziona però mi fa venire mal di testa, soprattutto con tre monitor, forse con uno ancora ancora. Oddio, mi si incrociano gli occhi, tra poco cado per terra con le convulsioni. Ok, no, forse a questa distanza è un po' meglio, se ti avvicini, non lo so, ci sono dei momenti in cui sembra perfetto, altri invece che mi fa sbarellare un pochino. Praticamente sopra ogni schermo ci sono delle telecamere per l'eye tracking e probabilmente fanno confusione, non lo so. Però è veramente figo, adesso che c'erano tutti i vari pezzi che uscivano, tipo il barile, io lo vedo qua, tipo la scatola, le vedo, sembrano venire veramente fuori. È stranissima come sensazione. Su tutti e tre gli schermi sono 4K, però ovviamente andando a riprodurre una doppia immagine è come avere 2K per un occhio e 2K per l'altro. Figo, ma non mi ha ancora convinto. Come risultato è sicuramente ottimo, ma non mi ha convinto al 100%. Io di solito non ho problemi di motion sickness o altro, ma mi ha dato un pochino fastidio. Qui abbiamo altre due demo, una integrata all'interno di questo portatile che è l'Elios 3D 15 e devo dire che su un monitor solo non è male. Lì invece ce l'abbiamo come monitor esterno con un altro gioco da utilizzare con il controllo dell'Xbox. Dalla fotocamera ovviamente non si riesce a avere la percezione del 3D, però vi assicuro che funziona. Diciamo che con un monitor solo l'effetto movimento così dà meno fastidio. L'unico problema è che, non so come spiegarvelo, se io muovo la testa a destra e sinistra vedo l'immagine che fa così. Altra novità, ovvero questo, un router wireless, o meglio il primo router wireless ecosostenibile. Si chiama Vero ed è un router Wi-Fi Mesh 6e. La caratteristica principale è quella di pensare all'ambiente, quindi con l'utilizzo di materiali riciclati, una verniciatura ecosostenibile e anche ovviamente una modalità che dovrebbe garantire delle performance o dei consumi decisamente ridotti. Per tutto il resto invece è un, tra virgolette, classico router Wi-Fi cui il mercato è abbastanza pieno. Nella parte posteriore troviamo il tasto di accensione e quattro porte Ethernet di cui una da 2.5 gigabit. Quindi ottimo, visto che sta iniziando a diventare sempre più disponibile. Quindi questo era tutto dallo stand di Acer. Devo dire poche cose, ma una decisamente interessante. Spero davvero di vedere il KZTX da solo in commercio, perché nonostante io non sia un grande amante dei KZTX, quello penso che possa essere davvero interessante e mi piacerebbe farci una configurazione all'interno. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Da Blink è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Vi ricordo che è disponibile BlinkMyPC, il sito perfetto per essere sicuri di realizzare il proprio nuovo computer al meglio spendendo il meno possibile, realizzando configurazioni personalizzate oppure scegliendo tra quelle proposte in base al prezzo desiderato. Ovviamente non mancano le offerte in tempo reale, recensioni, articoli e il merchandise. Trovate il link in descrizione.